ciao ragazzi oggi siamo su roblox e oggi dovete lasciar attenti se vi piace che andremo all'avventura comunque vedendo così non è che sembra roblox però vi posso giurare che roblox è 3 di roblox al quadrato prima cosa se andiamo è così con questi con tutti questi così capite che roblox e anche per altre cose su quello sembra roblox però quando sei dentro sembra un altro posto è bellissimo infatti infatti oggi andremo a uccidere qualche mostro e vi mostro tutto se volete se volete giocare vi faccio vedere come si chiama il gioco e dopo vi mando sulla chatta il nome del gioco prima cosa cosa vende sempre le stesse cose posso vendere vabbè io ho raccolti tutti questi oggetti 150 la materia sono ricchissimo vabbè questi mi servono infatti infatti non vendo adesso perchè devo comprare una spada più potente di questa e dominate quanto costa qua ci sono le pozioni però non credo vabbè infatti devo essere super potente in questo c'è materiali ho questi che non servono adesso se andiamo qua io voglio questi sopra ho avuti tutti infatti ho venduto vorrei avere questo che fa danno 89 che potentissimo infatti prima cosa mi serve 10 di legna di questo 19 di questi mattoni e 6 di questi e poi 30 di questi che si metteranno su fraternità però guardando attentamente i mattoni posso avere andando qua aggiornando ok ok posso andare a prendere altri aspetta quanto ne ho adesso e la mia ah e no dove è quella spada eccolo qua e serve 19 prima non so quanto ne avevo però vado a prendere un bagno ok per me bago anche in questo gioco la grotta se non sbaglio era dietro una casa di questi si ehm che strano era dietro qua vabbè ah eccolo andando qui ehm dopo si esce anche dal biglietto ah e comunque chi è arachianofobico sconsiglio di entrare nelle grotte o scavare dei tesori perché qua ehm c'è tantissimi ragni piccone dov'è strumenti e qua eh una eh ok seconda parte quante ne devo avere 19 ecco come vedete se chi ha paura dei ragni sconsiglierei di guardare questo video però vabbè ehm con il tasto sinistro a scudo come vedete eh ma c'è un porcellino oh cos'è qua è inglese io purtroppo non capisco è inutile se leggo e qua è una bella bistecca ah era questa non so cosa intende però vabbè andiamo con l'avventura ragazzi ok non mi sono cavato nulla eh cinque era no sempre strumento oh qua ehm non so perché è tornato il fucile vabbè il fucile era meglio lasciare da parte ok abbiamo preso tutto eh non so quante ne avrò però vabbè un cinghia oh ma che fa ah e non so che sia un cinghia eh 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 mi scusi eh ok vabbè eh allora ho visto il ragno dietro di me ho visto il ragno dietro di me e niente penso che ho tutto e altre cose avrò nell'avventura la grotta la grotta è verso di questo comunque questo è bellissimo perché non sembra per niente roblox sembra un altro gioco però però se avete dei telefoni che fanno fatica o dei computer dubito che fanno fatica a giocare questo eh ho capito che stavo facendo boh ah giusto strumenti va bene mi sono danneggiata guarda è come nella vita reale questo è anche un po' troppo eh la stella la stella lo vendo dopo quando avrò la spalla prima andiamo qua qua è per vendere i tesori però mi darà non granché andiamo a fare una aspetta prima compro le chiavi che purtroppo ne ho pochissimo aspetta vediamo quale cassa si può aprire perché ok ehm quello è normale allora serve queste chiave questo no vabbè io sono confuso qua ne ho tutti gli oggetti del mondo e qui se vado vendi oggetti ahhh ah ah sbagliate vabbè dai adesso ho capito ok compriamo le chiavi per la cassa normale ci vuole questa per la cassa a pro ci vuole questa compriamo compriamo più che si può e dai quattro e ormai è pomodissimo quella cassa quella sembra una bomba che esplose in aria oppure è stato buono ok andiamo con le navi e basta sparare si è sparata la mia navi no guarda ok non è la mia la mia dovrebbe avere due cannoni eh però è un po' lontanina dai mettiamo più lontano possibile eh no qua dai lì così voglio che arriviamo prima ecco la mia nave come vedete è gigante però ci sono delle navi anche le più belle di questo ok eh verso di qua se non sbaglio giusto? si comunque è una bellissima avventura questa addio addio città no no io posso tre scogli però è quando navigate fate attenzione che ci sono pirati fantasma ci sono pirati fantasma aiuto aiuto almeno che è andato ok ok avevo paura di andare a smattere in quella lancia infatti contro è anche dietro il trailer giusto? si infatti qui era sporato uno dei pirate non sarà facile non nel non 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 oh riesco a saltare ok eh si va bene non si vedremo tanto in questa isola vado in questa persona che la dita la grotta purtroppo ero morto in questa grotta che devo dire anche sono i passi perché non lo so praticamente i pirati sono potentissimi questo non è che danneggia così tanto ok purtroppo non posso aprire mi tocca su supremo no maggiore dai sennò muoio con una facilità ecco ehm ah la luce mi mancava vai non ho capito state scherzando state scherzando ma io come faccio oh shit no no io voglio tornare indietro voglio tornare indietro ma cos'è dovrebbe essere un pulsante tornato normale deve andare zig zag purtroppo si alleluia ma questa prima non c'era ma che è non c'era oh no io detesto questi pirati muovete muovete stupiti pirati insomma quanto mi toglie di vita mamma mia eppure il fucile è grande non è che sto attaccando tanto eh oh no e basta oh no eheh è mancato eh stupido pirato eh si e muori oh aspetta che guarisco e basta con il fucile oh mi avete rotto eh si vabbè questo quando viene sparato non riesce neanche a muovere stai fermo per favore eh oh che fatica oh io 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 no è qui che sono morto no state fermi state fermi state fermi state fermi per favore ma no ma quanto mi toglie non potete infatti ecco oh ragazzi datemi un consiglio ecco iniziamo già per come superare questa parte è difficilissimo oh oh signori signori corri 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 corri��iamo eh no è verso di qua no no uffa aiuto bonus quanti pirata mancano No, brutto ragno Dai, mi mancano solo due Giusto? Ma dove sono? Quando lo cerchi Non lo trovi Ah, ecco Non muare il ragno, eh Ah Ah, che bello Basta Basta, ragazzi È impossibile No, 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 no Questi sono un po' esagerati per me No, pure apre, no Per favore Ma io come faccio a sopravvivere? E uccido prima Muori, muori Ok Ok Una è morte Devo attirare Una per una Se no Ecco, apre, vieni Ok Tirato lui Ecco Questo anche Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Io odio Le despe Che può evitare Ok Adesso Quello più vicino Ehi Vieni Gattino Vieni qua Ok, bravo Eh, adesso è la tua morte Mamma mia Se mi cava Ok E poi Dovrei Aver fatto Ah, giusto In quell'arena Ecco Uno per uno Per favore Uno 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 per uno Non due per due Se no mi uccidete Con una Facilità Ok Attirato Vieni qua Ok Dai Dove è bene Ok Ti ho ucciso E mi serve Uno Ok Attirato Ehi Vieni Oh Si va Cieco Ok Ho il genio Il Maremma 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 Stupenda No, no Mi fate Un po' di danno Maremma Mamma mia È Impossibile Il tesoro L'ho scavato Eh no Ehm Io torno sempre qua Qui ho già fatto Oh Che goduria Qui nessuno può Sporarsi E mi manca Solo Questa parte Dai Adesso mi devo Vendicarmi E muori E muori E muori Ok Uno è fatto Ehm No Con la pistola No Ok Devo attirare Questo E poi Ehi Ehi No 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 Per favore No Corri 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 Ok Ha tirato Questo Si Viene Poi Tocca a te La torfina E ora Tutto barbone Muori Adesso Guardiamo Un po' Michio Sei tu Che mi hai ucciso Vieni qui Adesso Mi rendico Muori 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 Ru 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 Do Su Lecumano Oh Ragazzi Queste avventure Non finiscono mai Giusto Un po' Ne è uscita Sarebbe questa Dai Ehi Qui Il barbone Muori Ok Sta Faccio Mentre E basta Fare il pistone Oh Basta Io odio questo gioco Inizio a odiare Dai Un Eh Sì Un'arena Domani Dai Iniziamo Un'area Due Basta Che dolore Brutto Non mi preoccupi Eh Già Sì Vabbè Tu Non mi prendi Non mi prendi Sì Vabbè L'uscita Brutto Barbone Aia Brutto Ragno Brutto Ragno Brutto Ragno Ma io Mamma mia Che fastidio Vedate Sul serio No Basta Con i fucili Basta Io Moglio E come Così Dai Guarisci Mi serve Del cibo Del cibo Del serpente Che schifo Sul serio Lo so Che è orribile Veder mangiare Un serpente Troppo è la vita Ragazzi Per sopravvivere Devete mangiare Tutto Anche i cimici Lo so Che vi fa schifo Rata Rata Aaaaaah Deu e sede Era Ok Ok Ti ho già ucciso Mi ricordo Mi ricordo Tu mi avevi sparato Mi ricordo Benissimo Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Che fa meno danno Fa male Ecco Volete mangiare Se Non vi scrivete Vi faccio dei video Mentre mangi i serpenti Il cuore Nero Che tragedia Oh Opa Mi son guardito Dai Questa Ho finito Alleluia Ma manca la parte sotto Sarebbe un ragno Se mi sbaglio Agno Vieni qua Per fortuna che non so che ne so Sennò Questa ora Mi avreste già divorato Ditemi se a voi I ragni vi piacciono Da mangiare Come Ah manca questo Quello che mi aveva Unciso Non ucciso Però Quello che mi ha fatto Sì Bene Per accontentarvi Posso mangiare Una bistecca Eh sì Però Però cruda Ragazzi Non ho avuto il tempo Di cuocere Maremma Che orrore Che orrore Che orrore Che orrore Che orrore Giro, giro, giro il tondo Casca il tondo Bistecca Eh No Fermi 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 Aia Fermi 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 Per favore Mi fate male Che è curabile Però State fermi Grutto Ape Ma vuoi Per una guerra Eh Eh E muore E beccati Stupido Eh Ragazzi Purtroppo Mi tocca Mangiare Mangiare Il serpente Che Che mi guarisce Più Di più Dai È come la bistecca Pruda Prossima volta Se vengo qua Devo cuocere Se no Morirò No La bistecca Il serpente è finito Qualcosa È abbondante Oh No E dove mi trovo Questa grotta Mannaggia Aspettate Ok Ehm Vabbè Niente ragazzi Per questo video È tutto Ehm Vi ho fatto vedere La nave E niente Se volete giocare Questo Chi ha voglia Di avventure Questo è perfetto Per lui E niente Ciao a tutti E ci vediamo Nel prossimo video Di Marte Romagnoli Vabbè Devo ancora scavare Il tesoro Vabbè Ciao ragazzi